Come ti dicevo prima, c'è un team dietro, diciamo che è un po' la merda che mi esce dalla testa, viene un po' modellata, però è sempre roba mia comunque Esatto, anche perché la cosa interessante, lo dico, che era uscita anche nel podcast, che tu all'inizio eri magari anche un po' giustamente impara Che tipo dicevi, no questa roba non la so fare, non la so fare, poi Jake e Fish ti hanno detto, oh mettiti là perché lo sai fare Sì, 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 sì Sì, ma Jake tipo si metteva dietro e mi faceva, no lo sai fare, fallo, fallo Allora, era lì, ti faceva brutto dietro, però insomma i risultati Però gli vogliamo bene, i risultati ci sono Ci sono, ci sono Ti vorrei chiedere, cosa ti ha lasciato, cosa ti hanno insegnato di positivo Big Fish e cosa Jake LaFuria? Ma ti posso dire che in realtà tutte e due mi hanno lasciato di buono il gioco di squadra, cioè nel senso una cosa che mi hanno insegnato E quando c'è un team, comunque una squadra dietro, quando c'è il gioco di squadra, le cose sono sempre una bomba Perché comunque ci sono più teste, più pensieri, più opinioni e quindi Laila vuole essere proprio passato Vi hai fatti un po' dannare, eh? Sì, sì, sì Vi hai fatti un po' dannare Di brutto in realtà, solo un po' Ve lo diceva Jake, però insomma vi divertite Ah sì, mi vogliono tanto bene, io voglio tanto bene a loro, sì sì, siamo una grande famiglia Sì, 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 sì